Tutto secondo pronostico, il Pineto fa un sol boccone del Porto Sant'Elpidio e si porta a casa la vittoria. Il 3-0 finale a favore degli uomini di Mister Amalo la dice tutta sull'andamento di un match che non è mai stato in discussione e che i ragazzi di casa hanno cercato di far rimanere in bico il più a lungo possibile. Il dominio degli Abruzzeti è stato pressoché totale e non poteva essere diversamente vista la differenza tecnica tra le due squadre. O Miccioli si schiera con un prudente 5-4-1 con Zanetti come unica punta supportato da Manari e con Zier lasciato in panchina. Il Pineto invece fa esordire al primo minuto Minincleri al servizio di Olcese con Bugaro e Verdesi larghi sulle fasce. Sin dai primi minuti il tema del match è chiaro, al secondo Verdesi serve Bugaro che in diagonale non c'entra lo specchio della porta. Al ventesimo Esposito serve Olcese che calcia ma Cavaliere è bravo a respingere di piedi. Un minuto dopo la gara si sblocca, crossa dalla testa di Bugaro che trova la testa di Salvatori il quale stacca bene e gonfia la rete. Il Porto Sant'Ilpidio si vede con una punizione di Manari preda di Mercorelli. Al 34esimo ancora Pineto con De La Quercia che crossa verso Olcese il quale calcia le prime intenzioni senza fortuna. Prima dell'intervallo altro paio di occasioni per gli abruzzesi, prima con Bugaro e poi con Verdesi che trovano pronto Cavalieri. Nella ripresa rientra in campo un Porto Sant'Ilpidio che vuole cercare di impensierire gli ospiti. Al secondo punizione di Manari che crea qualche grattacapo alla difesa a Biancazzura che rimedia in corner. All'undicesimo non è entrato Palumbo, serve Esposito ma Cavalieri non si lascia sorprendere. Al 14esimo arriva il raddoppio. Ciarcelluti da pochi secondi in campo pennella un cross dalla destra verso Verdesi che la difende bene e serve Paoli il quale fulmina Cavalieri dal cuore dell'area di rigore. Il Pineto gioca sul velluto e al 26esimo trova anche la terza rete con il classe 2000 del Mastro che sfrutta al meglio un corner calciato da Palumbo gonfiando la rete. O Miccioli fa entrare Zira e l'attaccante classe 2000 calcia verso la porta al 35esimo trovando pronto Mercorelli alla parata in tuffo. All'ultimo secondo del Mastro va vicino alla doppietta personale ma non è fortunato nella battuta. Termina con il successo del Pineto su un Porto Sant'Ilpidio al terzo cappavo di fila che rimane ancorato a quota 2 e che ha bisogno di rinforzi per cercare di lottare per la permanenza in categoria. Sì, lo sapevamo già in partenza che il Pineto è una squadra che lotterà per il vertice, lotterà per le prime posizioni, sapevamo della forza loro. Noi d'altronde in questa situazione abbiamo fatto credo il massimo, i ragazzi si sono impegnati al massimo. E ripeto, rifaccio i complimenti perché veramente sono ragazzi incomunabili perché non si allenano e giocano dando tutto. Poi sappiamo e sanno anche i ragazzi, abbiamo dei limiti in tutti i sensi, però queste partite fanno crescere, fanno crescere anche i ragazzi e tutto quanto. Però d'altronde andare avanti in questa maniera è pesante, è pesante per loro, è pesante per me, penso che sia pesante anche per la società. Ne dobbiamo prendere atto e questa è la partita. Poi faccio i complimenti anche al Pineto perché il Pineto ha fatto la sua partita, ha vinto meritatamente, non c'è bisogno di dirlo e perciò stiamo a commentare qualcosa che non c'è. Sono nella condizione che i ragazzi li alleno, ci alleniamo, però è difficile tutte le settimane parlare, dire e fare. I risultati poi fanno lavorare bene, fanno crescere i ragazzi perché perdere, perdere, riperdere tutto, poi andare dentro gli spogliatoi fai fatica, allenare è difficile. Da qui arrivare alla fine del campionato è lunga. La vittoria è importante contro una squadra di giovani, però che ha lottato per tutti i 90 minuti, ha chiuso bene in tutte le situazioni, quindi non era facile quando i risultati sono scontati come abbiamo detto in settimana, poi ce ne passa nell'interpretare la partita e nel giocarla. Siamo stati bravi, passare in vantaggio, poi abbiamo gestito il risultato senza rischiare più di tanto di positivo. C'è l'esordio di due ragazzi del 2003, tra l'altro nel Mastro è andato pure a segno, quindi questa è una soddisfazione maggiore, però sappiamo che abbiamo dei giovani interessanti e bene che si facciano trovare pronti perché crediamo molto in loro.